Buongiorno ragazzi, io mi sono Emanuele, un collaboratore della bucceria Pontina. Adesso vi illustro il nostro prodotto adattato in giro in ferita. Questo è un panino diverso dalla buccia sanneitina, perché è un impasto totalmente diverso. È molto più fragrante e leggero. Adesso vi spiego i nostri prodotti che facciamo totalmente noi. E' tutta la produzione della nostra Pontina, dalla carne agli ingredienti principali, le cipolle caramellate, pomodorini semisecchi e facciamo tutto quanto noi, Casareccio. Allora, noi abbiamo un locale a Latina dal 1998 e dal 2016 siamo in giro per tutta Italia per promuovere il nostro prodotto e farlo assaggiare a tutti quanti. Quanti siete come squadra? Allora, con questa squadra siamo quattro persone. E poi abbiamo anche un altro stand dove ci sono altre quattro persone. E giriamo tutta Italia. E niente, che altro?